Una discarica illecita di rifiuti pericolosi sono così scattati sigilli per l'intero interporto di Arezzo. Una sequestro che arriva a seguito dell'inchiesta della Procura di Arezzo che ha già iscritto nel registro degli indagati 5 persone. Ad eseguire il provvedimento questa mattina i carabinieri forestali della stazione di Arezzo assieme ai militari del gruppo ambiente della Procura Aretina. Gli accertamenti svolti negli ultimi mesi hanno interessato un'intera porzione dell'interporto di proprietà dell'amministrazione comunale dove sarebbero confluiti i fanghi provenienti dai lavori eseguiti a seguito dell'alluvione dello scorso luglio. All'interno dell'area, secondo una prima stima, ci sarebbero migliaia di metri cubi di fanghi mescolati anche a rifiuti pericolosi tra cui ci sarebbe dell'amianto materiale che non sarebbe mai dovuto arrivare in quel luogo. L'indagine condotta dal PM e Laura Taddei ha portato ad ipotizzare il reato di discariche illecita di rifiuti un'ipotesi confermata anche dal GIP Angela Avila che ha convalidato il sequestro. I sigilli poi, con un provvedimento del magistrato, sono scattati per tutta l'area dell'interporto. Sono in corso anche ulteriori indagini per accertare le singole responsabilità visto che si tratta di una zona utilizzata da molti enti e aziende incaricate. Nelle prossime ore potrebbero così scattare nuovi avvisi di garanzia. I cinque indagati attualmente sarebbero i soggetti che hanno avuto in gestione quell'area. Saranno poi svolte anche indagini ambientali per quantificare l'esatta natura e le caratteristiche dei rifiuti.